Sfiorati nelle ultime 24 ore i 200.000 nuovi contagi, il tasso di positività è al 16,2% con un numero purtroppo ancora alto di vittime, 184. Triplicate le prime dosi del vaccino agli over 50, il primo effetto del decreto che introduce l'obbligo vaccinale per questa fascia d'età. Sulla ripresa della scuola domani il governo va avanti nonostante le proteste e le richieste di rinvio dei governatori. Per l'aumento dei contagi la Sicilia rimanda al 13, il ritorno in classe De Luca in Campania ha bloccato il riavvio delle elezioni fino a fine mese, ma il governo farà ricorso. Torna seppure con difficoltà ma lentamente verso la normalità la situazione in Kazakistan dopo una settimana di violentissime rivolte e la dura repressione ordinata dal presidente Tokayev che ha ringraziato la Russia per l'aiuto fornito dietro agli scontri e spunta l'ipotesi del tentato colpo di Stato. Scatta questa mattina con la partita Venezia-Milan la seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Un turno rimodulato dalla Lega Calcio in tre giorni per l'emergenza Covid. Le giornate di campionato del 16 e del 23 gennaio si giocheranno con un massimo di 5.000 spettatori sugli spalti. Di nuovo buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Tg la 7. Dunque la crescita dei contagi prosegue in maniera esponenziale, è quello che hanno confermato anche ieri i dati. Insomma non c'è un'inversione di tendenze. I nuovi casi ieri sono stati circa 200.000, a fronte di oltre 1.220.000 tamponi. Tasso di positività al 16,2% e purtroppo ancora 184 vittime. L'ultima settimana, l'undicesima consecutiva, è quella che ha trasformato una crescita costante del numero di nuovi casi in una crescita esponenziale. Con la penetrazione del virus nel territorio, il numero di casi per 100.000 abitanti, ormai abbondantemente sopra le più alte soglie di guardia e valori superiori, scrive l'Istituto Superiore di Sanità nell'ultimo report, a 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le fasce di età. Anche l'ultimo bollettino quotidiano ha fatto segnare incrementi percentuali a doppia cifra. Il tasso di positività oltre il 16% ha prodotto quasi 200.000 nuovi contagi, a fronte di oltre 1.220.000 tamponi processati. In calo le vittime 184, il giorno precedente ne erano state registrate 223. Negli ospedali il numero dei pazienti Covid nei reparti ordinari sfiora ormai le 15.000 unità, con più 339. Nelle ultime 24 ore sono 58 in più, invece i posti letto occupati in terapia intensiva. Le regioni più colpite in questa fase rimangono la Lombardia, dove ancora una volta si sono sfiorate le 50.000 nuove positività, il Veneto oltre 20.000 casi, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia, tutte oltre i 10.000 casi. Sul fronte della campagna vaccinale c'è stato un incremento delle prime somministrazioni, 65.000 in un giorno, il 60% in più rispetto alla media della settimana precedente. Tra i nuovi vaccinati ci sono anche 15.000 ultracinquantenni, tre volte in più della media registrata nei sette giorni precedenti. Sembrerebbe un primo effetto del decreto che introduce l'obbligo vaccinale per quella fascia di età, ma è ancora troppo presto per capire se la mossa del Governo è servita a convincere chi ha scelto di non aderire alla campagna vaccinale di massa, una platea che tra gli over 50 è di oltre 2 milioni di persone. Il tema che in questo momento sta generando polemiche, richieste smentite e conferme, soprattutto da parte del Governo, è quello legato alla riapertura della scuola prevista per domani. Insomma, le regioni, medici, presidi chiedono al Governo di procrastinare questa riapertura, ma l'Esecutivo va avanti per la sua strada e tra l'altro annuncia il ricorso in caso di ordinanze avverse, come quella ad esempio della campagna del Governatore Vincenzo De Luca, che ha procrastinato l'inizio delle elezioni per elementari e medie alla fine di questo mese. Si allarga il fronte delle proteste da parte dei governatori contro la riapertura delle scuole. Il Ministero dell'Istruzione, intanto in fretta e furia, ha impugnato l'ordinanza con la quale il Governatore della campagna De Luca ha deciso di posticipare l'apertura delle scuole dell'infanzia, elementari e medie al prossimo 29 gennaio. Per il Ministro Bianchi il provvedimento di De Luca è in esplicito contrasto con la norma oggi vigente in Italia, che fa divieto alle regioni e ai sindaci di intervenire, tranne in zona rossa, in casi estremi molto specifici. Per De Luca invece la sua misura serve a scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale. Sarà un tribunale amministrativo a dirimere la questione. La situazione invece della Sicilia è diversa, ha detto lo stesso Bianchi. Il Ministro ha spiegato che il calendario scolastico dipende dalle regioni. Si deve andare a scuola 205 giorni l'anno. In Sicilia era stato programmato tenendo fuori quattro giorni da poter spendere quando si riteneva e questo ha fatto il Governatore Musumeci. I sindaci del Ragusano poi hanno revocato l'ordinanza con la quale avevano disposto la chiusura delle scuole dal 10 al 19 gennaio e l'adozione della DAD. Una decisione assunta dopo che un provvedimento regionale ha previsto la ripresa delle elezioni dal 13 gennaio per consentire ai sindaci siciliani di organizzare al meglio il rientro degli studenti. Questa sospensione servirà per valutare meglio la situazione sanitaria. Nel Ragusano ci sono 17 comuni, compreso il capoluogo, che da oggi per 10 giorni sono in zona arancione. Per quanto riguarda le altre regioni, la Puglia aveva chiesto in vano un posticipo per consentire la vaccinazione degli studenti, ma il Governo sul punto è stato irremovibile. Mentre il Governatore del Veneto, Zai, a teme che le aperture saranno un calvario, attende anche lui il decisivo parere del CTS. Dopo un silenzio che perdura ormai dal scorso 22 dicembre, domani il Premier Mario Draghi tornerà a parlare con la stampa in conferenza stampa. Draghi spiegherà, entrerà nel dettaglio dell'ultimo decreto legge anti-Covid, spiegandone l'ispirazione, le motivazioni, le sanzioni e quant'altro. Un decreto, ricordiamo, ha suscitato parecchie polemiche e anche molte critiche. Il Presidente del Consiglio lo illustrerà domani in coincidenza con la riapertura di scuole e attività lavorative. Il pacchetto delle nuove misure restrittive deciso all'unanimità nel Consiglio dei Ministri di mercoledì scorso. Ma più che un'illustrazione, quella di Draghi sarà una spiegazione, viste le tante polemiche che il decreto il più detonante non fosse altro che per l'introduzione dell'obbligo vaccinale agli over 50 ha generato sia tra i rigoristi che tra gli aperturisti con la Lega arrivata addirittura a precisare di non avere alcuna intenzione di uscire dal Governo. Bene che queste nuove misure siano spiegate al Paese e fornire le ragioni degli ulteriori sacrifici richiesti è assolutamente essenziale, dicono i 5 Stelle, dopo che un reddivivo Beppe Grillo si era schierato contro l'obbligo vaccinale, rievocando scenari orwelliani. In questa fase di sorda ma turbolenta vigilia querina Lizia, Draghi tornerà quindi a parlare a distanza di due settimane dalla conferenza del 22 dicembre scorso, quella che tante congetture aveva suscitato sulle sorti del decisivo intreccio tra attuale maggioranza ed elezione del successore di Mattarella. Draghi si troverà però a dover rispondere anche alle domande sui nuovi fronti aperti nel Governo con le Regioni, ovvero la situazione nelle scuole e il caro Bollette, sul quale è in piano corso lo scontro tra 5 Stelle e gli ex alleati di Governo leghisti. Perché è un Salvini partito in quarta, a favore di un nucleare indispensabile per attutire i vari ricari previsti, l'Italia non si può permettere in noi ideologici, dice, i pentastellati reagiscono parlando di un dibattito sull'energia da pura barzelletta demagogica, trovando così, almeno su questo, una saldatura con PD, che con Alessia Rotta aveva risposto così al segretario leghista. Oggi parlare di nucleare diminuirebbe le nostre bollette? No, è una menzogna. Il Governo sarà impegnato da qui a giovedì prossimo, quando varierà un nuovo decreto, a racimolare risorse da destinare come ristori alle piccole e medie imprese, ai trasporti e soprattutto anche al turismo. Una cifra non straordinaria, che comunque non comporterà nessuno scostamento di bilancio e andrà evidentemente recuperata all'interno della manovra di bilancio. Piccole e medie imprese, turismo, trasporti e nel caso di ritorno alla didattica a distanza permessi retribuiti ai genitori e maggiore domanda di babysitter. Costrette di nuovo a fermarsi per Covid, aziende e lavoratori italiani chiedono nuovi ristori. Il Governo prepara un nuovo decreto da varare possibilmente già giovedì prossimo, ma la coperta è corta. Per ora, i fondi a disposizione sarebbero solo 2 miliardi da racimolare tra quelli previsti dalla legge di bilancio, dalla cassa integrazione alle quote specifiche già stanziate per turismo e automotive, fino ai non meglio precisati altri risparmi da trovare nelle pieghe dei conti pubblici. Il Ministero dell'Economia esclude un nuovo scostamento di bilancio, quindi la ripartizione dei fondi tra i diversi settori sarà complicata. Turismo e discoteche dovrebbero ricevere ristori sia sotto forma di aiuti alle aziende, sia come proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria destinata ai lavoratori. Il Ministro Garavaglia chiede coperture per almeno 13 settimane di cassa integrazione destinate a 170.000 persone. Viste le numerose cancellazioni di congressi ed eventi, anche per le almeno 570.000 trafioristi e operatori del catering interpreti serviranno con urgenza ristori. I sindacati chiedono l'estensione della cassa integrazione straordinaria di altri tre mesi per le piccole imprese, dall'artigianato al calzaturiero, che l'hanno avuta fino al 31 dicembre. Devastate dal Covid, che falcia le presenze del personale in servizio, e dagli aumenti del carburante, anche le aziende dei trasporti rischiano la chiusura. Molte avrebbero già chiesto sostegno ai Ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture, altre starebbero per farlo. Si va da Italo a Flixbus a Trenord fino ad importanti vettori del trasporto aereo. Sul fronte del credito bancario, infine, l'ABI e un'impresa lanciano l'allarme sulla fine dei prestiti garantiti e sulle crescenti difficoltà delle imprese beneficiarie a rimborsare le rate. Ieri, nella giornata del sabato, tradizionalmente dedicata alle proteste, sono tornati in piazza a manifestare i No Green Pass. La donata più rappresentativa si è svolta a Torino, dove Ugo Mattei, docente di diritto civile, ha ringato un migliaio di persone preannunciando la creazione di un comitato di liberazione nazionale. Nella piazza Novax di Torino, la prima del 2022, viene annunciata la creazione di un comitato di liberazione nazionale. Lo chiama così Ugo Mattei, ex candidato, sindaco di Torino e docente di diritto civile, che fa parte di dubbio e precauzione la commissione di intellettuali che mette insieme Carlo Freccero, Massimo Cacciari e il filosofo Agamben. In piazza però c'è solo lui a tenere davanti a un migliaio di persone una lezione di diritto e di storia paragonando al gran consiglio fascista alla cabina di regia e invitando la folla alla disobbedienza civile. È la prima volta che i No Pass tornano in piazza nel nuovo anno con due bersagli precisi, il super Green Pass e l'obbligo vaccinale per gli over 50, le nuove misure del governo. Alla fine non arriva neanche Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, a casa perché ho l'influenza, dice collegandosi al telefono, reduce da una marcia di protesta partita da Venezia. C'è anche la deputata di Alternativa Cex, Movimento 5 Stelle, Jessica Costanzo, che invita a decidere da che parte della storia stare. Qualche momento di tensione quando i manifestanti improvvisano un corteo verso il comune e la polizia li blocca. Nel 27esimo sabato di protesta contro il Green Pass i numeri sono in calo un po' ovunque. Quella di Torino è la manifestazione più partecipata. Circa 500 persone hanno protestato a Cagliari, ci vogliono segregare come gli ebrei. Slogan contro la dittatura sanitaria e anche a Trento, dove in piazza ci sono un migliaio di persone. Quasi nessuno a Roma, un centinaio all'arco della pace, a Milano, 200 non passano a Genova. L'appuntamento se lo danno ancora per sabato prossimo. Posso permettermi accostamenti storici quantomeno inopportuni. Le notizie che arrivano dal Kazakistan spostiamoci dunque all'estero parlano di una situazione ormai prossima alla normalizzazione dopo le proteste scaturite, scatenate dal caro Energia e la dura repressione e dura e sanguinosa repressione ordinata dalla Presidente Tokayev che ha ringraziato la Russia per l'aiuto fornito. Dopo una settimana di violentissime rivolte contro il governo e una repressione durissima che ha provocato decine di morti e quasi 4500 arresti la situazione in Kazakistan si sta stabilizzando ma resta la volontà del Presidente Tokayev di reprimere i disordini anche a costo di sparare ad altezza uomo. Continua anche la linea diretta con il Presidente russo Putin. I due hanno tenuto un lungo colloquio con l'obiettivo di ristabilire l'ordine contro coloro che sono considerati terroristi. Tokayev ha anche ringraziato l'alleanza militare CSTO e in particolare la Russia per l'aiuto fornito nel sedare le proteste. Intanto ieri è stato arrestato l'ex capo dell'intelligence Masimov con l'accusa di alto tradimento. Fedelissimo dell'ex Presidente Nazarbayev Masimov era stato sollevato due giorni fa dalla carica. Secondo alcuni analisti l'arresto suggerirebbe uno scenario più complesso ovvero uno scontro proprio fra Tokayev e Nazarbayev che sarebbe degenerato in un tentativo di colpo di Stato. Nazarbayev ha però almeno ufficialmente smentito così come smentite sono le voci che lo davano in fuga a Dubai. Il suo portavoce ha affermato che si trova ancora nel paese. La situazione in Kazakistan getta poi altra benzina sul fuoco sui rapporti già tesi fra Russia e Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la partenza volontaria dei dipendenti non di emergenza del Consolato Generale di Almaty. e anche l'Europa guarda ovviamente a Kazakistan la Presidente della Commissione von der Leyen ha affermato di seguire gli sviluppi con grande preoccupazione. Il Presidente Francese Macron ha chiesto una de-escalation mentre il Segretario Generale della Nato Stoltenberg al termine della riunione straordinaria dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica ha chiesto la fine delle violenze. I diritti umani ha detto devono essere rispettati e ciò include libertà di espressione e manifestazioni pacifiche. Siamo alla pagina sportiva con il calcio oggi si giocano 8 dei 10 incontri nell'ambito della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A che il 16 e il 23 vedrà presenti sugli spalti solo 5.000 spettatori questo raccogliendo l'invito che era stato rivolto da Mario Draghi alla Presidente Federale Gravina di procedere a qualche misura per contenere la diffusione dei contagi anche all'interno per l'appunto degli stadi La Serie A ha risposto all'invito del Governo e dopo la telefonata tra il Premier Draghi e il Presidente della Federale Calcio Gravina l'Assemblea di Lega ha deciso che le partite di campionato del 16 e del 23 gennaio con relativi anticipi e posticipi verranno disputate con la presenza massima di 5.000 spettatori sugli spalti vietate le trasferte e chiusi di conseguenza i settori solitamente riservati agli ospiti il provvedimento che evita lo spettro delle porte chiuse non riguarda né la Supercoppa del 12 gennaio né gli ottavi di Coppa Italia dei prossimi giorni rimangono con il pubblico al 50% anche le gare della seconda di ritorno e il calendario non subisce cancellazioni il Tar ha infatti accolto tre dei quattro ricorsi presentati dalla stessa Lega Calcio contro le disposizioni delle Asle che avevano posto in quarantena Udinese Salernitana e Torino tutte e tre le squadre potranno scendere in campo la sfida dei Granata di Juric con la Fiorentina verrà però disputata domani alle 17 mentre il Bologna che uscirà oggi dall'isolamento affronterà il Cagliari martedì alle 20.45 intanto il giudice sportivo non si è espresso sugli incontri saltati alla Befana che restano subiudice i contagi intanto non si fermano tre i positivi nell'Atalanta due nel Napoli Coulibaly in Coppa d'Africa e Zielinski uno nella Roma impegnata nel tardo pomeriggio all'Olimpico contro la Juventus in emergenza Mourinho lancia il nuovo arrivo Maitland-Niles mentre lo squalificato Allegri preferisce Ken allo spento Morata il modulo bianconero dipende dalla condizione di Chiesa e di Bala nell'altro big match di oggi la capolista Inter ritrova Geco ma Simone Inzaghi punta sulla coppia d'attacco Martinez Sanchez per battere la sua vecchia Lazio e tenere a distanza il Milan ospite del Venezia alle 12.30 ufficiale infine il passaggio di Insigne al Toronto dal primo luglio curiosità per l'accoglienza dei tifosi al capitano del Napoli in occasione della gara casalinga con la Sampdoria Prima di chiudere il caso Djokovic ritorniamo sul caso appunto del numero uno del tennis mondiale alla mezzanotte italiana inizierà l'analisi il giudizio sul ricorso presentato dal giocatore serbo contro l'espulsione dal paese per non aver rispettato le norme anti-covid un ricorso però pieno di incongruenze L'attesa finirà alla mezzanotte ora italiana alle 10 del mattino in Australia e questa è l'ora della verità per Nole Djokovic il più forte giocatore di tennis al mondo è il momento in cui il giudice Anthony Kelly aprirà l'udienza che dovrà decidere se Djokovic potrà riavere il visto d'ingresso negato lì al suo arrivo in Australia e giocare così il primo slam stagionale vinto nove volte oppure se il ricorso presentato dai legali del tennista serbo vada respinto se così fosse Djokovic che da quattro giorni è confinato e richiedenti asilo verrebbe rispedito in patria con effetto immediato non solo non potrebbe nemmeno giocare lo slam australiano per i prossimi tre anni un danno di immagine enorme e forse irreparabile gli avvocati di Djokovic nelle 35 pagine della memoria difensiva sostengono che il numero uno al mondo in base alle regole fissate da tennis Australia e dallo stato del Victoria abbia diritto all'esenzione dal vaccino perché risultato positivo a un test del 16 dicembre 18 mesi dopo il primo contagio avvenuto a giugno 2020 è questo il punto decisivo della vicenda non sono pochi i lati oscuri a cominciare dal fatto che per il governo federale australiano la guarigione da covid non basta ottenere un aderoga al vaccino ma c'è dell'altro il 16 dicembre il giorno del test Djokovic è stato visto la presentazione ufficiale di un francobolo in suo onore non solo nei giorni successivi ci sono immagini che documentano la partecipazione di Djokovic a dibattiti pubblici senza mascherina non esattamente il comportamento che dovrebbe avere chi ha appena saputo di essere stato contagiato e direi proprio di no allora fra poco torna Paolo Sottocorona con il meteo poi c'è il dibattito condotto da Flavia Fratello il dibattito di Omnibus i suoi ospiti Mila Spicola Rossano Sasso Attilio Fratta Antonella Mascadi Francesco Paolo Sisto Andrea Colletti e Carlo Nordio e con il TG è proprio tutto la prossima edizione invece alle 13 e 30 grazie e buona giornata Grazie